Allora, questa sera una bella frittata, ecco le uova, un po' di prezzemolo con asparagi selvatici, salcicce quelle secche e un po' di peperoncino dolce secco. Tocchiamo l'uovo, ecco, tagliamo la piamma, passiamo la piamma, mettiamo un pizzico di sale, mettiamo il pizzico di sale, mettiamo un po' di peperoncino, mettiamo un po' di peperoncino, Questa è una ricetta che ha scritto anche il professor Severino su pollata.org tra le tante ricette che il professor ha scritto, è bella solo a vedersi, ma io me la mangerei con gli occhi, ma veramente me la mangio dopo, ok, facciamo un'occhiamata, ok.